Presidente Loria, è iniziato oggi il 53esimo campionato della Pallamano Italiana Maschina, insomma con quale auspici parte quest'annata della federazione? L'auspicio è quello di migliorare, penso che negli ultimi anni, soprattutto il campionato di Serie A Gold con la sua nuova denominazione, ha mostrato una crescita costante, quest'anno si prospetta un bel campionato con squadre tutte rinforzate, con quattro formazioni italiane che si uniscono alle quattro nel femminile che parteciperanno alle coppie europee, quindi l'auspicio è il miglioramento continuo e portare sempre maggiori interesse verso la nostra disciplina. A questa Serie A Gold parteciperà quest'anno anche la formazione federale del Campus Italia, questa sera all'esordio della massima categoria e in effetti si è notato il passo tra la Serie A2 e la Serie A1 per questo gruppo giovane che però resta sempre molto promettente. Sì, è un gruppo giovane che chiaramente farà questo campionato per accumulare esperienze di gioco, minuti, per iniziare a competere al di fuori del proprio biennio di competenza che è il 2004-2005. È chiaro che soprattutto all'inizio il livello di competitività di questa squadra sarà come è stato anche in questa giornata relativo, però io sono molto contento da questa partita perché si vede che questi ragazzi stanno crescendo e hanno tenuto bene il campo e speriamo, anzi confidiamo, che sarà così sempre meglio per tutto l'anno.